musica le vidi radio vecchie questo è vero comunque ragazzi questa è la parte 2 del video perchè sono passate questa è la parte 2 come avete visto prima che facevo questa parte la parte della parte 1 se volete andare a vederla, andate molto prima a speed Marco ciao Marco comunque ragazzi abbiamo scoperto che da quella ventola dobbiamo arrivare fino lì ora voi mi dovete dire la possibilità di arrivare fino lì però noi non abbiamo provato il caffè quindi proviamo il caffè proviamo il caffè nella ventola spugnavolo ehi fra stai sulla pe- che è bloccato è crashato ma ci sei crashato il jet è stato così fuori raga voi non sentite ma è crashato no io no no io sono morto non sono ma dunque perché è caduta una lattina no io non sono crashato e aspetta che sto ritornando in quel punto lì così poi ti ti teletrasporto in quel modo non è razionale non lo puoi spiegare vediamo se si entrare poi spugna uno di quelli comunque ho scoperto che la cosa del caffè spugna dei caffè del raggiretto là quel raggio verde spugna i caffè eccolo ciao caffè brah è entrato? bravo hai imparato ad entrare nelle stanze fra facciate la finestra guarda che vedrai cadere un caffè ah è vero vai in chat gioco vai in chat gioco brah dove stai? eccolo il mio frattielo brah spawna uno perché ti spawna? no no eh sì oh attento attento bravo comunque fra guarda che no fra guarda guarda il raggio verde cosa so fare guarda il raggio guarda il raggio guarda l'hai visto l'hai visto? no guarda 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 lassù guarda su l'hai visto? guarda 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 è caduta una tazza non li faccio? guarda 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 cosa è guarda guarda Schiaccia Schiaccialo No ink left Aspetta, dobbiamo provare con la festa ora Schiaccia Schiaccia col bottone dietro di te Dietro di te sta il bottone Quello là Non quello, l'altro Oh, dietro là, quello qui c'è la porta Oh, dietro c'è l'altro bottone Aspetta, non abbiamo provato il caffè Non me tolgo il caffè, fra Tu non li sai collegare Oh 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 Allora, non butta teca Oh Allora, serviva il caffè Aspetta la ventola No, so caduto No Non mi dì No So caduto So caduto Guarda dove sono Dove stai Oh tu Aspettami Aspettami Aspè fra Mi spawni Aspè aspè Vai Aspè Vai Grazie Ok quali potrebbero servire per aprirlo Proviamo la festa Proviamo la festa Proviamo la festa Niente La festa però funzionava sempre La ventola No il caffè Prova il caffè No la ventola Si è la ventola Rob abbiamo staccato la corrente Hai visto? Andiamo Le vidi radio vecchie Questo qua che ho messo nel video È vero Andiamo Oh Siamo di nuovo nel party Mo Mi sa di sifra Oh mi sa che è finita Oh Oh un po dicevo andando fra pensa che da una torno ma siamo passati a ste cose 4 gesù gesù la terraferma si siamo scappati siamo scappati a quella quali se l'anno ma penso non sia finita qui ma spero non si può avanzare quindi qua no spero si può avanzare quindi non è finito oh è fatto lo sapevo lo sapevo ho un palco che cos'è oh fra lo sapevo che era falso anche questo lo sai? come la torno che era falso oh grazie per la tua collaborazione mi 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 è finuto un bel laicozzo no che figo sembra un film è un film un zero zero lobby ah ritorno alla lobby ragazzi questo video è di due parti perchè è troppo una parte è finito qui è finito qui vorrei tanto continuare che facessero una seconda modalità di questa mappa vorrei tanto texomini 97 ini il club originale di tex come questa lì potete entrare ora devo aggiungere Marco ah mi sta invitando quindi andiamo da Marco che glielo dico pure lui che lo invito Marco ti devo invitare nel club originale del mio canale direcrum si perchè è di lecrum il club potremmo creare questo tipo di mappa nel club così chi entra nel club di noi può entrare direttamente nella mappa quindi Marco non cliccare nessuna porta che è che è questo è il mio club texomini 97 ini ora ti invito dove stai dove stai gamer Marco gamer Marco ecco ti Marco ti dovrebbe arrivare un invito fra poco penso aspetta ti è arrivato si si è entrato membri Marco lo metto vice capo permessi coowner salviamo creator creator modicato ragazzi qui di questo non credo Marco oh basta questo è il club devo cambiare l'immagine lo so come si fa vabbè club setting la cambia di sere mettiamo shopline per ora foto del club mettiamo tipo questa aspetta che devo mettere la foto del club ragazzi la faccio con voi la foto del club marco vieni qua vieni davanti a me perfetto un attimo Marco che devo rifare la foto non so perché che non ci sta più la foto del club ok così ok aspetta dai ferma 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 guardami guardami ok oh conferma ok la prima foto è questa la foto che uscirà nel club sarà questa aspetta madonna la faccia gigante di Marco ti faccio una bella foto come ecco questo l'immagine del club che è in modo bello la foto e questa è la foto il magicante ok club è un club creativo ah no social non social che bella la foto marco 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 aspetta è fermo ok questo saranno i ricordi spero mettiamo niente per ora niente perché non ci sono i sole allora ragazzi questo è il club vabbè l'ho già detto unitevi tutti che chi si comporta bene diventa moderatore ciao raga ciao 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 ciao